Seconda sconfitta consecutiva per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che al Palasport Estra si deve inchinare alla sostanza e alla qualità della Vaking a Monte Catini. Fuori Capitan Castelli per Arezzo e Tomei Pieritermali, che fin dalle prime battute di gioco mettono in campo maggiore energia rispetto al Quintetto Aretino. Zampa piazza subito una schiacciata che fa capire la determinazione della squadra ospite, che dopo 5 minuti di gioco è avanti 14-5. Nel primo quarto l'Amen litiga con il canestro e racimola solo 12 punti contro i 23 avversari. Ad inizio secondo quarto la squadra di Coach Cardelli allunga ulteriormente toccando più 16, 38 a 22. Coach Evangelisti ruota tutti gli uomini a propria disposizione ma non riesce a trovare le giuste trame offensive. Solo poco prima dell'intervallo Tenev segna tre triple consecutive ma dall'altra parte la Viking ha già in doppia cifra Romano Marengo e Ingrosso. All'intervallo il tabellone recita un eloquente 42 a 27 che al rientro dagli spogliatoi diventa 48 a 29 con il massimo vantaggio ospite sul più 19. L'ASBA abbozza una reazione con alcune azioni offensive che lasciano sperare in qualcosa di diverso per il finale di gara. Infatti dopo il 61 a 50 del trentesimo l'Amen prova la rimonta arrivando fino a meno 6, 64 a 70. Ma qui viene fuori l'esperienza e la concentrazione di Montecatini che amministra con autorità incrementando di nuovo il vantaggio chiudendo la contesa sul meritato 84 a 67 finale. Dopo questo turno infrasettimanale l'Amen avrà poco tempo per rifiatare prima di tornare in campo nella sfida in trasferta con Val di Sieve in uno scontro diretto in programma sabato sera alle 20.30 in terra fiorentina.